La festa dei 18 anni di Giulia La sorella di Chiara la protagonista È una scena dove vediamo tutta la famiglia di Guarasio insieme per la prima volta Ed è una delle prime scene che ho scritto per il film Prima di girare a Chiara ero sempre a Giulia e Tauro dove vivo E sono stato invitato a un diciottesimo proprio in questo ristorante Era un di quei momenti in cui il lavoro e divertimento si mescolano Io ero lì a divertirmi Ma stavo già studiando le dinamiche tra le persone Le fasi della festa, le battute Stavo già immaginando dove avrei messo la macchina di presa per coprire questa scena I quattro anni dopo abbiamo invitato tutte le persone che fanno parte della famiglia Rotolo Che interpretano la famiglia di Guarasio per creare una vera intimità Tutti loro sono a loro agio perché ci conosciamo tutti È la loro festa e noi siamo solo lì per documentare quelle che fanno Ovviamente ci sono lì per dare direzione alla scena È una scena che richiede 360 gradi di visibilità Tutte le luci erano appesi in alto Eravamo tre operatori Girare così è stato un baletto tra noi tre Ed è bravo, esatto Non prendi se per il tuo figlio Non ti faccio Non ti faccio Non ti faccio Non ti faccio grazie a te Grazie Grazie Grazie.